Il progetto di legge finanziaria regionale per l'anno 2011 conterrà anche norme per la regionalizzazione del patto di stabilità interno. Ad annunciarlo è l'assessore al bilancio ed enti locali Carlo Masci. La profiga collaborazione avuta con il presidente dell'Anci Abruzzo Antonio Centi ha permesso di approfondire la possibilità di far sì che anche la nostra regione, sia pure con scarse disponibilità di risorse e mani in norme per gestire su base regionale il patto di stabilità. Sarà resa possibile la compensazione dei flussi di spesa tra gli enti locali obbligati al rispetto dei limiti stabiliti dalle norme nazionali. Si andrà così incontro alle eventuali necessità di quegli enti che nel rispetto delle norme necessitano di andare oltre i limiti prefissati dal patto. Meccanismi premiali, aggiunge l'assessore, saranno previsti per i comuni che si fanno carico del personale delle comunità montane. Il presidente di Anci Abruzzo Antonio Centi, nell'apprezzare la disponibilità dell'assessore Masci, si dichiara consapevole che tale opportunità potrà senz'altro rappresentare un primo passo utile agli enti locali virtuosi abruzzesi per poter attivare politiche di sviluppo territoriale rompendo i vincoli del patto di stabilità nazionale.